Bella a tutti ragazzi ritrovati sul nostro canale Oggi siamo qui con un gameplay assurdo fatto dal nostro caro JTF Fero Bella ragazzi Ed è un hub in tutti contro tutti fatta in 120 secondi Un gameplay molto bello, molto frenetico Ovviamente non rispecchia gli standard che vi aveva abituato Fero Ovvero le doppie mob in TCT o i record italiani o europei sempre su TCT Però comunque credo che sia un gameplay di tutto rispetto e molto veloce E niente ragazzi adesso lascio un attimo ancora la parola a Fero Che andrà a spiegarvi quello che ha scoperto su TCT in Call of Duty Ghost Sugli spawn, sulle mappe A proposito delle sue cuffie che forse tutto andrà bene e comprerà domani Dai Fero Bella ragazzi sono JTF Fero E oggi voglio parlare di un argomento molto importante Sia le cuffie che avevo già passato trattato Perché come già sapete Adesso in questo periodo sono da quando ho comprato Xbox One Sto giocando senza cuffie purtroppo E se tutto va bene domani che è il 15 usciranno le Turtle Beach So for se qualcuno le conosce consiglio questo paio di cuffie Che diciamo è il più economico rispetto alle 11 E comunque permette di giocare in un modo diciamo abbastanza Permette di giocare bene insomma Quindi ragazzi in questo periodo diciamo Ho giocato in TCT si scoprendo un po' gli spawn Però non sono riuscito a fare le doppie game Perché comunque senza cuffie Come ho già detto è molto difficile Quindi ho visto diciamo qualche video di qualche youtuber Come per esempio Rinaldi E mi sembra che le mappe più fattibili per queste doppie game in TCT Mi sembrano sicuramente Tremor E comunque sono le mappe dove gli spawn diciamo rispecchiano Diciamo i respawn rispecchiano più i respawn di Mv3 Cioè il free for all di Tremor e il free for all di Freight Rispecchiano diciamo i free for all di Mv3 Quindi diciamo sono abbastanza speranzoso su queste due mappe Per oggi diciamo il gameplay finisce qua Ragazzi spero come ha detto Zodiac che vi sia piaciuto Perché è un gameplay molto bello Passate alla pagina Facebook Passate sul mio canale Iscrivetevi Perché a breve appunto porterò questi gameplay Commentate E niente ragazzi Bella Bella Ciao 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 Ciao